Salve a tutti, sono Franco Angelino, 26 anni, sono un attore originario di Torino e anche in parte modenese, ma domiciliato a Roma. Che dire di me, sono una persona molto prelegata, sfaccettata, complessa, ovviamente in senso buono, a cui piace ridere, far ridere, scherzare, intrattenere, far divertire. Sono una persona a cui piace ovviamente la recitazione e il cinema, fin da quando ho memoria, il teatro, la musica, l'arte, la letteratura, la filosofia, la storia. Mi piace la conoscenza in generale, mi piace studiare, informarmi, conoscere cose nuove, posti nuovi, persone nuove. Mi piace migliorarmi come persona, come abilità, come nel mio mestiere. E sono anche una persona molto determinata, ambiziosa, sognatrice e a cui piace tantissimo viaggiare. Motivo per cui conosco anche le lingue. I speak English in a very fluent way and I've always spoken it and I'm always tired to get better, to improve and practice by talking, for example, with all the friends or all around Europe and the world. I have friends in Scandinavia, in Great Britain, in USA. And I can speak it in a more American accent, if you want, like someone known from California, Los Angeles, or for New York. And if requested, if needed, also with a more British classical way, depend on what you want, what you prefer, or what's requested. I always speak French, because it's the language that I speak to myself and I speak to my family who live in France. There are a lot of information, all together, that maybe I don't write in full, but I hope to give you a little bit of curiosity. I'll show you the profile. And I'll send you a great greeting. Thank you, Frank Angelino. Thank you, Frank Angelino.